è iniziata decisamente col botto e con delle sorprese questa giornata di serie a perché sembrava poter essere un pomeriggio apparecchiato per le sgasate di juventus ed inter invece prima la juve inciampa lecce e poi l'inter fa la stessa cosa in casa con il parma e perde la possibilità di riprendersi la vetta della classifica due pareggi che hanno molti punti di somiglianza in entrambi i casi sia la juventus che l'inter non sono riuscite a concretizzare quello che è stato un chiaro predominio del gioco in entrambi i casi hanno trovato avversari che hanno fatto molto bene la loro partita in entrambi i casi ci sono degli aspetti da analizzare detto che questi risultati ci danno anche la dimensione di quello che vado e andiamo dicendo da tempo ovvero che quest'anno abbiamo una serie a piuttosto diversa rispetto a quello a cui eravamo abituati negli ultimi anni vediamoli allora questi pareggi questo 1 a 1 della juventus a lecce questo 2 a 2 dell'inter in casa col parma inizio anche per ragioni cronologiche dalla juventus la juventus ha lasciato per la seconda volta in questo campionato dei punti ancora in trasferta ancora in una partita pomeridiana segnata comunque da un clima piuttosto caldo questo è un alibi per molti è un qualcosa che tra l'altro sarri non ha preso nel post partita però è un qualcosa che può avere qualche incidenza e qualche significato specialmente in un momento in cui si gioca ogni tre giorni si viene da un impegno piuttosto probante in champions league dal punto di vista delle energie spese sia in un momento in cui bisogna gioco forza rinunciare a qualche valore sull'altare poi del lavoro per averlo al massimo nei momenti decisivi la juventus si è presentata a lecce ad esempio senza cristiano ronaldo però è una partita che al di là di questo aspetto presenta delle dinamiche piuttosto chiare delle dinamiche anche un pochino costanti ultimamente nella juventus la juventus ancora una volta al via del mare ha mostrato quello che secondo me è un impianto di gioco assolutamente di alto livello e assolutamente ben costruito il palleggio della juve è ottimo è fluido è continuo ha tante soluzioni ha tante possibilità di costruire occasioni da gol indipendentemente dagli interpreti perché ripeto a lecce non c'era cristiano ronaldo hanno giocato i guaine di bala sono arrivate tante volte delle situazioni in cui la juventus avrebbe potuto concretizzare e non sempre lo ha fatto tant'è che è andata in vantaggio solo su calcio di rigore un calcio di rigore realizzato ancora una volta di bala di bala è la prima nota positiva di questa juventus perché la coscia sta prendendo continuità ve l'ho già fatto il discorso di bala io credo che al di là di aspetti tattici o aspetti tecnici il ragazzo argentino abbia fatto un click mentale nel momento in cui non ha voluto andare via ha rifiutato comunque non si è accordato per andare da un'altra parte si sia ripreso la juventus e si sia ripreso anche un po se stesso in questo momento di bala è cattivo di bala è affamato oltre che un grandissimo giocatore e si vede infatti fattura in tutte le partite quello che mi lascia piuttosto sorpreso per non dire sconcertato di questa juventus è un qualcosa che si vede più o meno in tutte le partite ed è una sorta di frivolezza di leggerezza che la juventus non ha mai avuto non solo con allegri e con conte ma non ha praticamente mai avuto nella propria storia la juventus fa degli errori la juventus spreca le occasioni e al via del mare ne ha sprecate veramente tante perché è una partita che la juventus poteva vincere largamente per il volume di occasioni da gol create e soprattutto la juventus concede tanti gol spesso è capitato di andare in svantaggio di concederli in avvio è capitato anche nell'ultima partita di champions league è capitato in campionato in partite anche più morbide da gestire sulla carta come quelle ad esempio vengono in mente contro il verona e contro il brescia la juventus puntualmente prende gol praticamente in tutte le gare e questo è frutto probabilmente anche di una necessità di digerire il sistema difensivo molto sincronizzato molto organizzato molto studiato di sarri anche un po per l'assenza di chiellini e io ve l'ho detto il giorno dopo l'infortunio questa è un'assenza che la juventus pagherà tanto e poi c'è anche il discorso dell'ambientamento di delict e veniamo alle cose che non stanno funzionando nella juventus io sono del partito che è convinto che delict alla fine della stagione avrà dimostrato di essere uno dei centrali più importanti del mondo e per questo è stato fatto un investimento molto corposo per rapportarlo però questo suo ambientamento è problematico il calcio di rigore è arrivato ancora per un suo infortunio per un suo fallo di mano delict non gioca sereno delict ha dovuto cambiare veramente tanto dall'anno scorso a quest'anno e il fatto di non avere uno come chiellini di fianco sicuramente non è un aiuto per lui perché bonucci sta facendo una buonissima stagione ma non è chiellini è un difensore di tutt'altro stampo per cui delict chiaramente in questo momento viene in qualche modo discusso così come è inevitabile che venga discusso bernardeschi l'altro giocatore che in qualche modo è finito dietro alla lavagna nella partita di lecce bernardeschi è stato schierato ancora una volta come vertice alto del centrocampo a rombo quindi come fantasista nel 4 3 1 2 e al di là di essersi mangiato un paio di chance veramente significative non entra in circolo del tutto in questa squadra bernardeschi soprattutto in campionato non è il giocatore che doveva essere nel momento in cui l'infortunio di douglas costa gli ha dato la possibilità di avere un minutaggio significativo oltretutto nella juventus si è fatto male anche pianic bisognerà vedere l'entità dell'infortunio comunque una bruttissima notizia nel momento in cui c'è anche un turno infrasettimanale contro il genoa c'è il derby sabato prossimo contro il torino pianic è un giocatore insostituibile in questa squadra l'abbiamo visto chiaramente visto che sarri rinuncia addirittura cristiano ronaldo ma non rinuncia al bosniaco sono pensieri un po spinosi nella testa della juventus ripeto rimane l'impianto di gioco che è la cosa più importante alla fine di ottobre inizio di novembre però qualche aspetto ormai piuttosto chiaro da migliorare c'è e ripeto questa sorta di leggerezza mentale è la cosa che più stona per quello che dovrebbe essere la juventus per la sua tradizione anche per la sua forza juventus che dunque non va in fuga non ammazza il campionato ma l'inter non la riprende perché poco dopo l'inter invece appunto di operare il sorpasso si è fatta ingabbiare dal parma è finita 2 a 2 è un altro colpo psicologico per l'inter dopo la sconfitta di barcellona nel primo vero esame della stagione dopo la sconfitta interna con la juventus arriva questa mancata ripresa questa mancata possibilità di rimettersi al comando sarebbe stato molto molto importante per l'inter riprendere la vetta soprattutto appunto per un discorso nervoso per un discorso mentale e invece l'inter ha fatto 2 a 2 contro il parma prima di tutto meriti al parma anche in questo caso come nel caso del lecce la squadra di diversa non si è snaturata ha giocato con le proprie caratteristiche oltretutto dovendo affrontare una vera e propria emergenza perché erano fuori entrambi i centramanti inglese e cornelius tutti e due infortunati il parma l'anno scorso ha fatto molto bene nei primi due terzi di stagione e molto male direi nell'ultimo terzo si è salvato senza grossissimi affanni però è stato visto per tutto l'anno come una squadra che otteneva risultato senza piacere quest'anno ha cambiato il parma ha cambiato diverse cose direi che anche un anno di serie ha fatto molto bene ad aversa perché la società con il ds faggiano ha messo nel motore due giocatori che danno molte cose qualitative in più davanti e sono kulusevski e caramò non a caso due protagonisti del pareggio di san siro così il parma ha un po più di calcio nei propri piedi e il modo in cui è andato ad affrontare l'inter ovvero con questo 4 3 1 2 con kulusevski sì nella zona di brozovic ma anche in quella zona della tre quarti in cui se riceve palla può scatenare la velocità e la mobilità dei due giocatori d'attacco e uno con un sinistro come kulusevski se riceve palla e ha dei movimenti davanti diventa un giocatore letale davanti appunto due attaccanti come gervinio e caramò perfetti per il contropiede ma perfetti anche per l'interscambio e infatti tutti e due sono entrati in entrambe le azioni dei gol e poi per il resto appunto questo centrocampo a rombo con un vertice basso tattico perfetto come scozzarella che non ha sbagliato un posizionamento per tutta la partita una difesa solida ha fatto bene il parma addirittura ha subodorato la possibilità di vincerla questa partita l'avesse vinta sarebbe stato un qualcosa comunque di al di là dei meriti della formazione ducale perché l'inter poi la partita l'ha condotta il problema è che non l'ha vinta perché l'inter vista questa sera è stata un inter alla quale è mancata un po di lucidità c'è stato questo tipo di carenza perché perché la rosa è quel che è e lo abbiamo visto fin da subito e ce l'ha fatto capire anche antonio conte in più passaggi l'inter non ha la rosa della juventus credo che non abbia neanche la rosa del napoli sicuramente è una squadra che si è ricostruita mettendo dei valori importanti prendendo un allenatore che sa migliorare chiunque e l'esempio più chiaro è che andreva andato ancora in gol e autore dell'assist per il gol del 2 a 2 un gol contestatissimo perché nonostante l'intervento della tecnologia non ci hanno ancora convinti del tutto della posizione di candreva per me effettivamente la posizione è regolare perché manca la proiezione della spalla però se voi vedete bene l'immagine la mia impressione che effettivamente il punto più avanzato di candreva sia la punta del piede e poi io mi voglio mi devo fidare della tecnologia perché un conto è l'analisi di un episodio ma sul gol non gol piuttosto che sul fuorigioco è un fattore aggettivo oggettivo è un fattore geografico quindi è impossibile devo devo per forza pensare che sia impossibile che ci sia stato un errore anche se la situazione è veramente al limite dicevo candreva simbolo di come antonio conte riesca a far dare a tutti qualcosa in più è mancata lucidità perché appunto i valori in rosa sono molto alti per alcuni un po meno alti per altri che dovrebbero dare alternative vedi ad esempio biraghi ancora una volta presentato al posto di asamo a e non è la stessa cosa in questo momento poi ci sono un po di situazioni individuali ci sono anche un po di situazioni episodiche perché se esposito avesse messo in porta quella volé sul calcio d'angolo sarebbe venuto giù san siro saremmo qui a parlare solo di lui e l'inter sarebbe prima in classifica esposito ha avuto anche una palla gol proprio al 97esimo l'ha quasi tolta dalla testa di lucaco antonio conte lo ha fatto debuttare in serie a al posto di lautaro martinez che secondo me ha fatto un'altra buona partita credo sia uscito lui e non lucaco per un discorso proprio di minutaggio perché lautaro aveva fatto tutta la partita in champions mentre lucaco era uscito prima per cui credo che antonio conte stia cercando di bilanciare questo discorso oltre che di integrare nel modo migliore possibile il suo parco attaccanti di esposito vi dico questo è un ragazzo che chiaramente per l'età ha delle qualità sia fisiche che tecniche che non possono essere considerate normali piace anche per questo tipo di atteggiamento che sembra quello giusto per un ragazzino che si affaccia a questo tipo di mondo però io non sono uno di quelli che fa del sensazionalismo sui giovani non sono qua a dirvi sicuramente l'inter ha scoperto il crack del suo futuro esposito è ancora tutto da pesare ha fatto un'ottima prima in champions è entrato anche in questa sua prima in serie a facendo bene ma di fatto togliendo poi a lucaco il pallone che avrebbe potuto essere quello della vittoria lo aspettiamo tutti esposito e siamo molto curiosi di vederlo il più possibile però occhio a far partire le fanfare perché ripeto sono tutti i giocatori che vanno ancora pesati va ancora pesato anche lucaco perché il gol di lucaco questo gol contestato questo gol discusso di cui parlavamo è un gol che gli dà continuità realizzativa e a un centravanti si chiedono numeri perché allora non è possibile che altri centravanti vengano giudicati solo per il numero di gol e non per quello che fanno sul campo e lucaco no i numeri dei centravanti sono imperativi e i numeri di lucaco sono molto positivi certo è che un gol che maschera una prestazione con ancora un po di polvere io ho l'impressione che ci possa essere al di là del solito discorso sulla condizione di lucaco sulle necessità di ambientamento questo è un discorso basilare il vero lucaco lo vedremo io credo dopo gennaio comunque al di là di questo mi sorge il pensiero che possa esserci una sorta di piccolo equivoco nel senso ho visto lucaco anche contro il parma giocare da boa fondamentalmente essere quasi sempre spalle alla porta essere quasi sempre chiamato ad un lavoro di sponda di raccordo e nonostante la mole lucaco non è questo tipo di centravanti lucaco è un giocatore che pur essendo un peso massimo pur essendo uno alto di stazza forte di testa è un giocatore che ama svariare ama partire ama arrivare in corsa ama scatenare la propria potenza devastante e allora mi torna alla mente la richiesta di quest'estate di antonio conto lui voleva lucaco e gecko evidentemente voleva mettergli vicino un altro centravanti che potesse far da boa per permettere a lucaco di fare un gioco diverso con lautaro martinez invece c'è a mio modo di vedere una buonissima possibilità di intesa però lucaco è chiamato ad essere in tutto e per tutto la prima punta e questa cosa lo sta un filino limitando perché a volte è un po' pachidermico a volte è un po' impreciso però ripeto se parliamo di centravanti dobbiamo parlare di numero di gol e il numero di gol di lucaco è assolutamente indiscutibile perché non vale per il 9 prima dell'inter e non per il 9 di adesso se contano i gol i gol contano e la carta canta nell'inter ci sono però indiscutibilmente dei giocatori insostituibili uno di questi è senza dubbio sensi quanto sta mancando sensi in questo momento perché è vero che gagliardini così come candreva è uno di quei giocatori completamente rigenerati ritrovati quasi fatti risorgere da antonio conte è vero che barella sta assumendo la responsabilità di essere il leader del centrocampo nella fase offensiva però ci sono chiare porzioni di partita in cui manca la possibilità di scaricare palla su un giocatore dal tocco dall'idea dalla visione e dalla capacità di accendere la luce di stefano sensi barella non può essere questo barella è un giocatore con caratteristiche diverse tra l'altro questa sua voglia di mettere sempre tutto è indubbiamente qualcosa di positivo però tutte le partite barella prende un cartellino giallo anche quest'oggi contro il parma è stato ammonito in avvio di gara ed è una situazione che antonio conte gli ha già fatto notare e che pesa inevitabilmente sul tipo di partita che poi va a giocare quindi è chiaro che l'inter debba aspettare con ansia il ritorno di stefano sensi e secondo me è anche chiaro che l'inter debba andare sul mercato a gennaio cercando un giocatore di questo tipo non mi suonano strane le voci su rakitic ve lo dicevo già quest'estate rakitic sarebbe il giocatore che fa fare un salto di qualità gigantesco all'inter e risolve questo tipo di situazione vedremo quello che succederà già io non sono un grande fan dei discorsi di mercato figuriamoci se mi metto a farli alla fine di ottobre altro giocatore insostituibile è brozovic e infatti sta pagando questo eccesso di minutaggio i suoi due errori sui due bellissimi gol di caramò e di gervinio sono un qualcosa di quasi fisiologico e questo va accettato altro giocatore in questo momento insostituibile è il leader difensivo e stefan de frey infatti è entrato a partita in corso per un godine che non è uscito tanto contento ma è un godine che sta facendo fatica sta facendo fatica ad adattarsi a questo tipo di calcio sta facendo fatica ad adattarsi a questo tipo di sistema di gioco oggi è stato presentato come perno centrale della difesa e gli è mancata quella qualità di regia che ha de frey godine rimane un giocatore dallo status indiscutibile rimane uno dei più grandi difensori degli ultimi dieci anni di calcio però in questo momento è un giocatore un filo in difficoltà dunque la juventus ha pareggiato a lecce l'inter ha pareggiato in casa con il parma questa giornata diventa una gigantesca occasione per le squadre che giocano oggi a partire da napoli e atalanta napoli atalanta non hanno partite facili però non hanno neanche partite impossibili io direi che questo può essere il turno in cui la classifica di serie a si ricompatta fortemente verso l'alto poi anche una grande occasione volendo il cagliari che gioca in casa del toro c'è il milan che gioca con la roma alle 18 c'è un posticipo caldo e frizzante fra lazio e fiorentina ma ci sono tante cose in questo weekend e ve l'ho detto voglio parlarvi anche di premier league lo farò nel corso del pomeriggio perché c'è stato un turno significativo e ho delle cose da dire oltretutto oggi si giocano delle partite discretamente pesanti c'è anche la liga per cui rimanete sintonizzati rimaniamo insieme a vivere questo grande weekend di calcio ci sentiamo prestissimo